L'ho persa in un sabato mattina di febbraio, era il 4 febbraio dell'89, sotto i cingoli di uno scavatore, per guadagnarmi mezza pagnotta da condividere in famiglia, appena sposato. E' avvenuto che hanno stati portati sul cantiere dei tubi di plastica che dovevamo trasportare in cima al cantiere, era una taglia a fuoco che serviva per gli agricoltori e avevamo imbragato questi lunghi tubi di 6 metri, diametro 40, erano più o meno 7 tubi se non ricordo male, imbragato al baricentro della benna dello scavatore. Uno teneva le sfremità a monte, io la tenevo a valle, combinazione un po' vicino ai cingoli. Nell'andar su il cingolo dello scavatore ha sicuramente passato sopra una pietra, ha fatto fare un po' di tremore ai tubi, le vibrazioni, la fune si è sfilata, i tubi hanno investito me e mi hanno buttato contro i cingoli. Ho avuto anche una grande fortuna di essere succhiato dal cingolo destro sulla gamba destra, io di essermi buttato tutto all'esterno e non farmi schiacciare, una fortuna proprio.